buongiorno a tutti oggi voglio presentarvi il nuovissimo paniere tesla un paniere a quattro gambe quindi ottimo e stabile da poter piazzare su qualsiasi tipo di terreno anche i più scoscesi come potete vedere sul telaio sulla parte posteriore del telaio sono state applicate quattro livelli per posizionare sempre e personalizzare inclinazione desiderata il panchetto a queste gambe di 36 millimetri per cui molto solide e con diciamo il sistema di sgancio che è molto molto facile molto fluido e ci permette di piazzare il panchetto anche in maniera molto veloce la novità più importante rappresentata dalla seduta vedete questa seduta anatomica praticamente è stata studiata proprio per avere il massimo comfort quando si va a pescare con la ruba sien proprio posta sulla conchiglia è un'operazione di pesca si pesca più che altro anche in inverno nei laghetti quando si pesca steso in avanti o comunque c'è tante persone la preferiscono proprio come posizione per pescare e vedete questa parte diciamo posteriore è stata fatta leggermente rialzata che ti va a sostenere diciamo il lombare è proprio con questa tipo di seduta si riesce a pescare in una maniera molto più confortevole il paniere viene completato da un alloggio posto sotto la seduta che uno può metterci sia delle lenze sia delle accessori due cassetti a chiusura magnetica a estrazione frontale ed un altro vano porta oggetti posto sotto i due cassetti a estrazione frontale la personalizzazione della dell'altezza viene fatta aggiungendo i moduli o al di sotto della seduta o dal di sotto diciamo dei moduli a distrazione frontale viene presentato in due colorazioni il white blu e il white black orange il white blu e 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 il